Grazie a tutti. Pronti per la live? Pronti con la live? Vediamo il primo che commenta e vediamo che cosa succede un po'. Giusto per capire. E' un orario un po' sfigato le quattro e mezza di sabato, suppongo. Decisamente sfigato direi. E' un orario un po' sfigato le quattro e mezza di sabato. Un forte ritorno in che senso sull'audio? Io non mi sento un ritorno di audio. E' bellissimo perché nelle statistiche mi ha appena detto che questo è il video con più like di sempre in live che ho fatto e con più commenti in live che ho fatto. E' un po' sfigato e grazie al cazzo, è l'ultimo, cioè è l'unico. Leonardo, ciao Leonardo. Diventa un po' difficile andare a vedere. Matthew presente. Quindi andate al Guru a Roma. Anzi, se mi scrivi... Allora, mi dici che senti la mia voce, ma anche gli altri sentono la voce una dentro l'altra? Perché i monitor sono spenti, quindi non dovrei avere in monitor nulla. Stefano Petroni. Ciao Stefano. Ecco, Giovanni ed Elvis dicono che si sente bene, quindi Johnny, cazzi tuoi, sei tu che hai qualcosa che non va. Matthew, dammi l'indirizzo e tutto del ristorante. Ciao Marco e ciao Stefano. Io invece non ho messo le cuffie perché ho un ritardo di, credo, una decina di secondi rispetto alla trasmissione e divento scemo uno con l'altro. Comunque funziona discretamente bene. Sono abbastanza impressionato. Il software è OBS. No, non è, non è il muro, Leonardo, è un green screen, posso cambiare quello che c'è dietro. Vittorio, ciao Vittorio. Stefano, rolling on the floor laughing. Va bene. In realtà potrei anche provare a vedere di riuscire. Allora, in teoria dovrebbe funzionare... Eccolo qua. Allora, Il Guru, ristorante Il Guru, via Cimarra 4, Rione Monti, a Roma. E in mezzo c'è Matthew. Andate e insultatelo, ovviamente. Ciao Francesco! Vedi? Johnny, vedi? Con safari e tutto. Il bello è che non avevo un'idea di che cosa fare, ma secondo voi vale la pena di fare un incontro settimanale? un sabato, una domenica, un qualcosa solo in live. Adesso ho tutta la struttura per poterlo fare. Non so se riesco... Eh no, non credo di riuscire a farla vedere, a meno di mangiarmi uno specchio. Cosa volevo dire? La cosa bella è che posso, teoricamente, vediamo se ce la faccio, girare... Che cosa ne pensi della fame nel mondo? Ci vogliono più brioche, avrebbe letto qualcuno. Ciao, Alejandro! Potrei riuscire a fare... Eccolo qua, vedi? Così. E così si vede direttamente... La diretta dentro la diretta. E dovrebbero vedersi anche... Eccolo qua. Va che bello, il sabato una live ci sta. Cosa ne pensi della fame nel mondo? Oh, ma di che cosa parliamo? Cioè, devo andare su YouPorn, no? Che poi mi chiudono il canale, porca miseria. Franco, adesso sento più forte. Ma probabilmente perché ho alzato la voce io... O altrimenti perché mi metto molto vicino al microfono. Movimenta questo green screen. Che cazzo metto? Giovanni, mandami un'immagine e la monto come green screen. che non mi faccia chiudere il canale, per cortesia. Oh, tra l'altro sono arrivato a oltre 10.000 fan sulla pagina, eh. È fantastico. Comunque così si sente la doppia voce. Sai che probabilmente si sente la doppia voce perché... Ma va a vedere... Il ritorno. Il ritorno credo che sia legato a... Così non dovrei più averlo. Il ritorno credo che sia legato al fatto che rientra l'audio del video capture. Perché ha il sito di Aranzulla nella barra dei preferiti? Sempre e comunque il sito di Aranzulla nella barra dei preferiti. Stai scherzando? Sennò come faccio a fare i video senza il video di Aranzulla? Così è ok. Fantastico. Grazie mille per farmi da beta tester. Non ho ancora capito esattamente come funziona OBS. È abbastanza un delirio. È potentissimo come software. Una roba impressionante. Adesso volume basso. Astè. Non so che farci. Vediamo. No, dovrebbe andare abbastanza bene. Spara, di qualcosa di interessante. Dì sulla vetta la torre antica, passero solitario, la campagna cantando vai finché non muore il giorno. Primavera intorno brilla nell'aria tu, Solingo o Gelin del Viver che daranno te le stelle, certo non ti dorrai che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. Ciao Tullia. E ciao Massimo. Allora sto green screen da mettere dentro me lo mandi o no? Perché altrimenti metto dietro, come sito dei preferiti, Aranzulla, eh. Aranzulla. Cioè. Non ha capito. Tra l'altro l'immagine che gira di Salvatore è mia. Quindi la cosa divertente è che posso mettere dietro l'immagine senza nemmeno avere problemi di copyright. Visto che l'ho fatta io. Vediamo se riesco a buttargli dietro direttamente un'immagine. Immagine. Aggiungi. File. Desktop. Video. Eccola qua. E la sposto sotto. Ok. Devo spostarla un po' più di là. Va meglio? Mi piace di più l'immagine così? Comunque continuo a volere un'immagine. Allora, per la ripresa uso una webcam full HD della Logitech. Che funziona discretamente bene. E per il microfono invece è il solito... Il rode, che è spettacolare. Obiettivamente il microfono è davvero davvero spettacolare. Allora, me le passate ste immagini per il fondo o no? Stavo commentando di là. Orca miseria. Aspetta, è vero. Ho il profilo personale. Aspetta un attimo che vado a vedere anche di là. Sì, perdona. Stavo guardando invece solo sull'altra. Adesso mi giro da una all'altra. Vediamo. No, ma non vedo commenti però sul profilo personale. No, non li vedo. Quindi mi sa che i commenti rimangono tutti qua. Ottimo, si vede benissimo. Rode fa cagare. Non è vero Stefano, io mi trovo davvero davvero bene. Eh, la luce in faccia? Sì, hai ragione. In realtà dovrei fare così come faccio nei video. Così almeno non ci sono, vedete, tutte le problematiche con i riflessi. Ma per un unico motivo. Sveliamo il mistero. Gli occhiali che uso per la diretta non hanno le lenti. È quello che fa cambiare il fatto che non faccia nessun tipo di riflesso. Allora, ti ricordi quando a Milano abbiamo incontrato Matt Mullenweg? Cazzo, certo non me lo ricordo Stefano. Non solo, io ho una foto mia fatta da Matt Mullenweg. Che è spettacolare. Aspetta che togliamo Aranzulla da dietro. Santa Aranzulla, ora Pronobis. Lo portiamo giù. Ok, ed è ritornato il fondo così. Ma la lampada tonda è non... È un neon vulgaris. Sì, è una lampada tonda neon. È una ring light neon. Perché? Perché in realtà avevo preso quella led, ma l'ho riconsegnata perché non fa abbastanza luce. Questa invece spara veramente tanto come luce. Anzi, adesso la metto anche più giù. Così almeno dovrei riuscire, teoricamente, a coprirmi la pelata. Tra l'altro... Mi è appena morto il mouse. Sì, in realtà, avete ragione, dovrei abbassare un po' nella color correction la gamma. Perché in brightness è un po' alta. No, la gamma così però non mi piace. Ok. Così dovrebbe andare un attimo meglio. Ok. Ho le occhiaie come un panda. Anch'io varie foto tue? fatte in quell'occasione. No, devi passare Stefano. Ero vecchio. Cioè ero meno vecchio di adesso. La lampada che usi all'ESC. No, Ftulia. La lampada che uso all'ESC, a parte il fatto che adesso è... è la ring flash. Ma era la lampada con tutte le lampadine. Questa qua invece è molto più semplice. Anzi, vediamo se riesco a mettere come immagine. No, non ce la faccio da qua di fondo. Però è davvero molto più semplice. Stefano non è la luce che è troppo fredda. Sono io che mi piace la gamma così. Quindi in realtà sono io che ho abbassato nella color correction la saturazione. Quindi abbassando la saturazione ovviamente passa da questo lato. Anzi, adesso è anche sbagliata. Ero riuscito prima a metterla a posto? Non... Adesso ci ho sminchiato un attimo e non ha funzionato. Vediamo color correction, gamma. La gamma è giusta. Anzi, mettiamo a zero la gamma. Così almeno ci siamo. Il brightness lo lasciamo più o meno così com'è. Il contrasto possiamo anche alzarlo un attimo. La saturazione la posso tenere più bassa. A me piace la saturazione. Poi posso fare un U-Shift da una parte all'altra. Luce fredda sempre. Troppo fredda. Fantastico. Gianlu, grazie per il... per i settaggi. Sono al 12% di CPU contro il 72% di prima. Quindi direi che funziona discretamente bene. Stefano, che webcam uso? usa la Full HD della Logitech quella con con l'ottica di Carl Zeiss. Ce l'ho da qualche anno. Era quella che avevo preso all'inizio per fare i filmati anche in registrazione. Solo che non mi piaceva la qualità che dava al viso e non mi piaceva il fatto che non avesse bocchè. E soprattutto il fatto che continuo a fare vedi? messe a fuoco e non riesco a fermare la gamma e la messa a fuoco. quindi non mi piaceva il fatto che shiftasse così tanto. Però sì, funziona davvero molto bene. Il 720 fluido tra l'altro Gianluca è fatto... Siccome qua in camera non prende come forse ti ricordi il... come si chiama? Non riuscivo a fixare il wifi. Ho preso il power over... Ho preso il cavo over power line e passo qua 15 megabit da una parte all'altra è più che sufficiente. Stefano, grazie mille. Adesso me lo sono segnato e mi segno Air Force One. Gianluca, tra l'altro non lo so, sai, se riusciamo a stremare a 1080. Ah, la dici, perché qui mi avevano scritto, avevo seguito il tutorial e diceva che il massimo era 7,20 e quindi ho lasciato 7,20. Ragazzi, dovete mandarmi assolutamente i fondi che volete che io metta dietro stupidi, se no come facciamo? Non ce la possiamo fare. Madonna, ho il ritorno in cuffia e ho la cuffia a fianco ma è davvero, davvero complesso capire che cosa si sta dicendo. Comunque, ciao a Salvatore, eh. Davvero, ciao a Salvatore. Tra l'altro, Salvatore, è allucinante lo tsunami di liquame organico anfibio che gli è arrivato in un momento in cui ha scritto il, ha scritto mentre era ancora abbastanza incazzato il suo messaggio pochi giorni fa. È davvero abbastanza incredibile. Tra l'altro, grazie mille per i like, mi stanno arrivando una caterva di like e sono, è bellissima le visualizzazioni, non avevo visto i cuoricini, anch'io tanti, tanti cuoricini, come si fa così. Giuseppe, il setup attuale è perfetto, anche, dici anche per i filmati su YouTube, perché mi solleverebbe un sacco di problemi non dover montare non dover montare ogni volta il tutto, perché in effetti non è per niente male, a parte il tagliare i filmati poi magari direi che funziona discretamente bene. Figo anello, Stephen Rydon, London. No, tu li ha questo, dici, di adello, aspetta, questo qua, però non mi danno la, la, non mi danno la percentuale, è 9,25. 9,25 è un, è un negozio che credo che nasca qua a Milano. Ciao Stefano, Mele, com'è andata oggi? Siete andetornati a Isfa? Oh, ieri Isfa, spettacolare il cambio delle impronte digitali con i pezzettini divertenti. Luca, no, non è la camera insonorizzata, è semplicemente, oh, bellissimo, scusate un attimo, è che Gianlu mi ha passato il fondo definitivo. No, non è insonorizzata, è un, è semplicemente green screen. È bellissima questa immagine, adesso la salvo subito. Allora, ok, vado a riprendere l'immagine, browse, datemi un secondo, è bellissima, ok, vediamo, oh, che figata, meravigliosa, che bella, meravigliosa. Così sì, così mi sento un po' nerd dentro, grazie Gianluca, mi sento un po' più nerd dentro. Vediamo qua, ciao a te, ciao Stefano, ora ti mando un delivery a casa in diretta, amo a te, non ho neanche pranzato, quindi volendo nessun problema, il problema è andarlo a seguire, però se vuoi, mangio qua davanti. è divertente la diretta, il problema è, dicevo, il problema della diretta è riuscire a capire se voi non scrivete di che cosa devo parlare, perché è un po' più complesso che non avere un argomento tutto insieme. Se volete vi presento Ulrico, che è lui. Ulrico è sempre qua, è fantastico. Cominciò a fondare con la gelatina calda per la luce è d'obbligo. In realtà basterebbe spostare la temperatura del colore che ho lasciato a freddo, però funziona. Enrico, dici riverbero? In realtà non riesco a capire perché tanti mi dicono si sente perfettamente bene, altri mi dicono sentono un riverbero. Johnny prima mi diceva che sentiva riverbero ma in in Safari. Ulrico è lì da molti anni, sì, Ulrico credo che sia abbastanza lì da molti anni. Molti, molti anni. Cazzo, dovrei truccarmi, però sembro un panda con la luce così. Mamma mia. Matteo, ogni tanto dormi. Il problema mio mi sa che adesso è sparito. Sì, Enrico, ogni tanto fa riverbero. Ciao Matteo, faccio un ciao internet. È vero, non l'ho fatto. Ciao internet. Maurizio, grazie mille. E gobniaci anche. Vai a cagare, Dario. Davide Camera. La camera continua a bruciarti i bianchi dei volto della pelle. Sì, hai ragione. Il colore della pelle è sbagliato perché è sbagliata la gamma, ma non mi piace l'effetto che fa. Quindi, ci sta. Cento commenti, siete degli spammoni. Ciao Pierluigi, ben arrivato. Federico Cortesi, si sente benissimo, tutto ok? Beh, il microfono fa tantissimo. Davvero, miglior acquisto di sempre il microfono. Costoso, 150 euro, ma migliore acquisti di sempre. E gobni, a pari, abbia pubblicato il nuovo bilancio. Non ho qui gli accessi, ma vado a recuperarlo poi con il nuovo. Frank Wolf. Ciao, ciao Frank. Devo fare anche un estote parati? Così preventivo? Estote parati. Devo andarlo a recuperare però, Matteo. Grazie mille per avermelo detto. Tra lunedì e martedì me lo faccio spedire. Dario Mazzolini, ti vedo abbronzato. Vai a cagare, vai. Giulio, Ferrieri Caputi, si sente benissimo, sei un grande. Un grande cosa, non l'hai specificato, ma un grande, sì. Matteo, dici che c'è un pezzo su Agi sul nuovo bilancio di Egomnia. Spettacolo, vado subito a vederlo. Agi, Egomnia. Vediamo un attimo. Toc toc. Vediamo. Così mi sentite meglio, peraltro, perché ho scoperto che avevo aperto le statistiche in play e probabilmente era quello che faceva riverbero. Stefano, sei pure appassionato di fantascienza, ma stai scherzando, vero? Un robot non può ricardare danno ad un essere umano per mettere che per il suo mancato intervento un essere umano ne riceva danno. Un robot deve rispondere agli ordini impartiti solo se questo non è in contrasto con la prima legge e un robot deve salvaguardare la propria esistenza quando questo non è in contrasto con la prima e la seconda legge, direi. Luigi, ciao Luigi, tre ore sei da me, ma perché? No, non farlo. Ciao internet, spammiamo, mi piace. Ma mi sentite ancora, vero? Sono ancora in live, vero? Mi date un ok? con scuso di verdura, cece alla menta, torta al cioccolato, acqua naturale, in arrivo da Vegan World, re del mondo, re del mondo. Sì, dovreste essere ancora live perché vedo arrivare i like, così non dovreste più avere il ritorno e non ce l'ho nemmeno io finalmente. Ottimo video, fluido, ragazzi, Matteo davvero ha mandato il pranzo col couscous di verdura, cece alla menta, la torta al cioccolato. Cioè, re del mondo, davvero re del mondo. Se sentite qualcosa che suona è il, è il campanello. Niente ritorni, fantastico. Uno è lieto di servire. Bella citazione, bella citazione Stefano, kudos. Ma ti piace solo quello o anche altre cose. Ad esempio, a me piace il fantasy. Io sono un patito allucinante di fantasy, di fantascienza che mi è piaciuto tantissimo tutta la saga di Hyperion ed Endymion. Se sei ancora a casa te lo mando qualunque intanto, te lo mando comunque intanto trovo altro. Perché intanto trovi altro? Io sono qua. Era ora che andassi a live. Eh, Tullia, è un problema andare live. Uno perché non avevo un computer, adesso ho il computer qua davanti, ho montato tutto come forse hai visto. Due perché dallo studiolo non prende la wifi benissimo e quindi era davvero un delirio. Quindi oggi ho colto l'occasione dalle 6 di stamattina che ribalto tutto e che vado in live. Marco Antonio, ciao Antonio, come stai? Ho sbagliato, ho fatto per le 20. Ah ma te, io, come vuoi. Non è assolutamente necessario, figurati, sei il re del mondo lo stesso. Dicevo, adesso i problemi con la rete si sono risolti più o meno con un'interfaccia di power outlet, quelle cose che metti dalla corrente da una parte all'altra e usano l'impianto elettrico per spostare connessione. Non funziona un gran che bene ma temo che siano le prese multiple dovrebbero andare direttamente nel muro ma 15 megapixel li faccio tranquillamente. Quindi per i 15 megapixel è più che sufficiente. Chi è che mi manda gli attachment? Sei un grande. Gianluca mi ha appena mandato il bilancio di egomnia. Fantastico. Ma quindi come ha fatto? Ha fatturato. Ok, è rimasta 314.000 euro con 165.000 euro di utile attivo. Fantastico. Poi devo andare a vedere un attimo. Costo del personale e qua mi rimane ancora difficile molto difficile capire come faccia a dire che mantiene 7 famiglie visto che il costo del personale sono 11.000 euro. Quindi 7 famiglie con 11.000 euro di costo del personale la vedo davvero davvero difficile. Attivo netto 165.000 euro utile 5.500 euro punto. Continua a fare 5.000 euro di utile e quindi utile di 5.000 euro su un fatturato di 314.000 Il fatturato non è neanche malissimo se non fosse che è n anni. Il problema davvero è 11.000 euro di costo del personale mi spiega come diamogne fa a pagare 11 persone con quello. Il totale dell'attivo sono 165.000 euro vediamo la disponibilità liquida 18.000 euro le rimanenze va bene volevo vedere se c'era qualcosa di veloce per capire il carbo di la rivendita e le prestazioni no niente di particolari salari e stipendi tra l'altro è sceso rispetto all'anno prima tfr meno trattamenti fine rapporto ok totale costi per il personale al 31 12 2006 ah eccolo qua ok ho sbagliato io a vedere 31 12 2016 ok costi del personale 49.000 euro scusate ho girato le due colonne perdonatemi ok quindi perché sopra era diverso allora vediamo un attimo quindi dov'è al 31 12 2015 ok eccolo qua totale attivo nel 31 12 2016 sono 61 immobilizzazioni 70.000 euro totale attivo 150.000 euro ok allora dove sono gli utili marca miseria si vede malissimo lo sto guardando dal dal cellulare come avete visto vediamo di riaprirlo 5.000 euro allora riniziamo quello era il vecchio vediamo il nuovo alla fine del tutto pa 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 eccolo qua questo è quello veloce costi di produzione 200.000 euro ok adesso ci sono costi del personale 49.000 euro lordi paga 49.000 euro di costo del personale contro gli 11 del 2015 quindi ancora 7 persone mi diventa davvero davvero difficile da capire e qua c'è tutta la parte di bilancio ottico veloce però diventa davvero davvero complesso comunque dai facciamo qualcosa nel prossimo nella prossima settimana andiamo a vedere qualcosa devo vedere solo alla fine l'utile di esercizio al 31 12 2016 è 3.099 euro ok quindi è inutile per 3.000 euro su 300.000 euro di fatturato fantastico leggo un po' di cose scusate 49.000 euro sono due persone part time sì anche secondo me Lorenzo però bisogna vedere quanto è invece il tutto quanto è il compenso veramente il futuro è live Tullia grazie non dice Matteo sei un cretino Matteo dice non dico non dice in che stato stanno le famiglie Dario anche tu sei un cretino le mantiene in Etiopia Antonio Pugliese grande Matteo ti seguo dal parco con i bambini gioca con i bambini invece che seguire me dai persino Woody Allen Valide tolo il mondo beh la cena di Natale è riuscita a pagarla va bene ti dico solo che fino ad anno fa ero presente in un'associazione culturale che si occupava in fantascienza fantasy e horror Deep Space Nine chapeau 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 davvero chapeau gli altri sono tutti morti quanti siete in questo momento live non riesco a vederlo adesso vado a vedere 29 views adesso vado a vedere da di là se riesco a capire come funziona la live papapà papapà 500 views non riesco a capire dove andare a vedere di nuovo le statistiche perché c'era la statistica di là forse nei publishing tools mi diventa un po' difficile trovare dove diamine andare a vedere le statistiche anche perché non ho mai fatto la live quindi diventa davvero complesso fai una volta la live con lo sblocco dell'iPhone anche no magari Gianluca ha la risposta 42 ecco esatto, 42 41 cosa 41? che cazzo state dicendo ragazzi? 43 ho sbagliato l'ho fatto per le 20 52 tombola chi ha detto di Space Nine? ciao Yvette 47 la smettete, deficienti Massimiliano, ciao Massimiliano il nuovo Alien ti è piaciuto? Alessandro non l'ho ancora guardato, devo dirti la verità mi manca veramente un po' ah Gianluca, i viewer istantanei voi scrivete così a cazzo io cosa ne so non stiamo dando i numeri eh, te piacerebbe fra poco non potremo più fare a meno di Matteo ciao Antonio è arrivato anche Antonio fate ciao ad Antonio cosa ne pensi di una nuova serie di Star Trek? allora vi confesso una cosa non sto guardando video anche perché davvero il poco tempo a disposizione che ho dal lavoro lo passo per fare i video per attrezzare e tutto quindi è davvero 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 complesso Alessandro grazie per i video Mattudini sono il giusto modo per cominciare la giornata allora, grazie ma alcuni mi hanno detto che sono anche il giusto modo per iniziare la giornata quando hai dei bisogni corporali da espletare perché favorisco I live but to serve Francesco Tusino ciao figo il fondale bello grazie in realtà non è il fondale non è ovviamente un dipinto è il è il green screen sei un sistema integrato ormai Federica vabbè comunque che palle ora tocca cosa portarti anche in live Luca fammi una cortesia tira giù il finestrino nella macchina guarda fuori e osserva la vastità del cazzo che mi fai domenico cioè non hai ancora visto la serie 10 del dottore no non ho ancora visto la serie 10 del dottore no no sto ancora guardando video punto d'altronde o li faccio o li guardo e siccome devo anche lavorare ogni tanto diventa davvero complesso fare tutto però 47 live è davvero davvero poco devo spingerla di più magari se a voi piace scrivetemi invece a che ora vorreste la live sabato o domenica e mattina o pomeriggio così almeno come per i video che alla fine li faccio alle 7 del mattino perché tanta gente ha letto 7 del mattino vediamo come si potrebbe fare o un sabato pomeriggio un sabato sera una domenica pomeriggio una domenica sera tanto ormai qui è tutto Luca figo il chroma key modificato in live Luca questo è OBS fa veramente 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 impressione OBS è fantastico 46 domenica ora di cena uè c'è il flora live e nessuno mi avvisa ciao Flavius io vado stasera ti dico per iven si Lorenzo fammi sapere grazie live ad ora di cena più che una serie di star trek gli aspetto di Orville e di Fox eh non lo so hai solo un tatuaggio sì per adesso ho solo questo ma farò la sleeve questo è un draconico prima o poi faccio una sleeve domenica sera alle 22 cazzo alle 22 io dormo ragazzi sono vecchio cioè adesso ora i migliori sono dopo cena per la live però potremmo che ne so cenare insieme la domenica cenare insieme guardando qualcosa sarebbe divertente a parte il fatto che guardarmi mangiare no anche no dopo cena per la live Luca davvero devi provare OBS fa impressione a parte il fatto che ho una macchina di merda perché ho un un mac mini del 2011 che sta gestendo questa cosa e al 12% di CPU facendo già direttamente la live quindi è spettacolare Francesco Tusino domenica sera alle 22 no l'ho già letto no 22 io dormo ragazzi sono vecchio sono vecchio cioè prendete ho quasi 40 anni davvero è difficile poi notifiche quanta gente mi sta scrivendo prossimo background chi mi lancia il prossimo background siete tutti morti ditelo o mi si è o siete morti o mi si è chiodato in realtà il mi sa invece che si è chiodato il browser ho come questa impressione mi si è chiodata la finestra dei commenti Cristina ciao sorellina ciao tata come stai scusate il sole sorge e tramonta negli occhi di Cristina quindi fate un po' voi ciao Flora vediamo 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 un po' vediamo riapro la finestra dall'altra parte perché se no non vedo i commenti dopo un po' sei chiodato la parte dei commenti Paolo Prosil sei un mito Matteo se magari qualcosa non va ma eccomi ciao Tullia non si riusciva a scrivere ecco allora c'era qualcosa che non va Giuseppe Ruggero ciao eccoci qua senti appena no in realtà mi dicono che più o meno va bene Alessandro Penna bella Teo bella Ale appena l'evento per prendere le domande sì Giancarlo anche perché se no montare le domande è davvero una un delirio Luca ah Luca stai spaccando sì Maroni ha un po' di gente Giancarlo il volume è salito di colpo e quello non so davvero cosa farci no Luca in realtà mi dicono che è un problema del browser che hanno già avuto quindi non riesco più a a capire come funziona Giancarlo le meraviglie di OBS sì Roberto sono troppo lontano troppo lontano perché cosa Giuseppe vorrei parlare non di Wannacramer il fenomeno che sta dichiarando alcune la bufana ah sì Blue Whale prima o poi mi ci metto a vedere Blue Whale mi ci metto a vedere un po' il tema in realtà mi ha perso un sacco di commenti secondo me non vedo più neanche i commenti di Cristina prima no mi ha perso una caterva di commenti ragazzi come cavolo è possibile che brutta sta cosa prima mi diceva che c'erano un sacco di commenti top comments no cronological buh non funziona più ciao sono Matteo e ho rotto la live vediamo un po' se riesco a trovare qualcos'altro non si capisce veramente vai da business manager ok non si riusciva a scrivere e invece io non vedo più i commenti in tempo reale per qualche ragione non riesco a capire come mai 35 34 12 6 no non vedo più i commenti ah eccole qua eccoci qua ma perché non vedo più vabbè non riesco a rilanciare il tutto credo di essere stato cretino di aver forwardato ecco che stupido che ho fatto ho lanciato allora in pratica ho shareato la live invece che sul mio profilo direttamente sulla pagina adesso lo metto anche sulla timeline siamo in live fantastico ok ho capito che cosa c'era che non andava ciao sono Matteo e sbaglio a fare le cose ok Gomblotto state bloccando i commenti non si recuperano i precedenti giuro che non stiamo moderando sì è vero fa vedere solo le varie parti fa vedere solo gli ultimi ma non fa vedere gli altri per qualche ragione non ho capito esattamente come mai e tra l'altro non ho capito come gestire il blocco della live a questo punto perché c'era la finestra della live ma non riesco a capire come bloccarla dopo che l'ho fatta partire e quindi è davvero un po' un problema va bene altri commenti vediamo se riesco a beccare i commenti in real time di nuovo ok i commenti no i commenti sono andati a quel paese spegni e riaccendi attacco faccine dos da cellulare scroll scroll tutto e si vedono adesso mi metto sul cellulare a guardare perché non riesco più a ritrovare i commenti vedo ne vedo l'ultimo o gli ultimi due ma non vedo tutto il resto che è davvero un problema perché se no non riesco a rispondervi provo a ricaricare provo a chiudere la pagina e a ricaricare eccoli qua Roberto ciao Roberto un po' di fondotinta alla Berlusconi non avrebbe stonato eh già stai parlando delle mie Louis Vuitton sotto gli occhi vero adesso vi vedo di nuovo tutti Federica ti ho già scerato all'inizio Tullia grazie mille Gonplotto state bloccando i commenti like vedi my account facebook premium problema sarà quello Luca sei un cretino ho perso i commenti no ok la colpa è di Chrome e ci sono molti più commenti sì anche a me Chrome sta facendo qualche problema interno Hogwarts Matteo Sarzana puoi dire ramarro tamarro posso anche dire orrore orrore ho visto un ramarro marrone nell'ascensore dire vecchio di te parlare ricordi a casa impiccato UBS spacca si hai ragione sto rivedendo tutti gli altri Elvis ciao Elvis ciao internet bene bene baci Cristina tanti cuori a Cristina i mech non si bloccano mai no ci siamo apro io un argomento bene dovrei averli recuperati più tutti ciao Max grazie mille un abbraccione anche a te spegni e riaccendi sì mi spengo e mi riaccendo io va bene bene allora vediamo come funziona se riesco a bloccare la live adesso mi piacerebbe capire ad esempio come faccio a bloccarla la live qua vedo il video stream vedo la stream key ma non riesco a modificare il tutto occhio che commenta la live vengono a processare più veramente di quelli normali ah ma dai bellissima questa idea sabato ovviamente sarebbe un bello orario con serate a tema ciao eric fantastico ok sapete che tra l'altro la live dice esplicitamente non mettete pubblicità davanti in mezzo in mezzo ai video blocca la possibilità di mettere la pubblicità allucinante sì a un certo punto Gianluca si è è cambiato qualcosa dal vederli in tempo reale sono passato a vederli a blocchi una volta ogni tanto fantastico sabato ore 20 fantastico meraviglioso dai sabato ore 20 sarebbe un bello orario con serate a tema sì questa sera si recita soggetto domanda invece per voi ma oggi che non l'ho che l'ho fatto alle 17 18 che facciamo facciamo live di domenica lo stesso e passate un tema o ci vediamo settimana prossima attendo vostre risposte tra l'altro poi lo lascerò online a questo punto vediamo cosa succede in realtà sì non mi dà pin come posso anche fare oh ma che meraviglia posso mettere i commenti in cima nella moderazione vediamo mettiamo piniamo qualcuno i commenti vanno via si rivedono a fine video vero rogero sì commenti no ma è l'account facebook premium basta andrea orario no good 17 stavo dicendo sì lo so Tulli in realtà non volevo stare in live volevo vedere se funzionava o meno e quindi fare una una buttata di di live di qualche minuto non di 47 minuti di live 47 minuti che siamo in live fantastico ciao andrea andrea lazari è arrivato adesso lupo luca ciao lupo toglimi la curiosità ma è il nome vero vero non è una presa per il culo giusto per sapere Tulli hai fatto benissimo I live but to serve anzi è un po' che non facevo vedere Ulrico Ulrico è sempre lì ormai siamo tutti in un Vico's Computing basta che avvisi sì Lorenzo la prossima la pianifico in realtà ho scoperto che è possibile pianificare la live tranquillamente quindi la si pianifica magari 24 ore prima a una certa ora e poi si fa partire così oddio c'è i cighetti mica avevo fatto uno più uno ciao luca ma adrenalab come sta Beppe praticamente siamo i Beppe sì Beppe sì assolutamente siete i miei beta tester Simone ciao Simone ben trovato Flavio a controllare il cance risolvi tutto devo trovare il cance adesso qua c'è tra l'altro alla tastiera Windows non sono più abituato alla tastiera Windows mi sto incartando ok basta quindi non mi dite se devo farla lo stesso domani o no la live va bene così siamo quasi a 50 minuti direi che lascio un minuto ancora per i saluti e chiudiamo al 50 davvero davvero luca volentieri assolutamente volentieri troviamoci a parte il fatto che dovremmo organizzare una pizzata tutti assieme zona Milano e via tra l'altro andatevi a vedere Adrenalab il cighetti fa veramente delle cose spettacolare Simone non mi dire che sei passato a Windows ma stai scherzando solo una tastiera Windows domani scordato ops è vero domani scudetto allora no grazie mille no ciao era ora ciao a tutti fantastico dai allora chiudo scrivetemi lo stesso in fondo a che ora volete e se domani sì o no ciao Alessio ciao e assolutamente allora cosa devo chiudere come fa VJ se il video è finito lasciate un commento mi piace anche sulla pagina facebook come sempre trovate nella descrizione se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo la prossima puntata con il telecomando no domani sole e mare sì Tullia guarda domani sinceramente potrei prendere la moto e andare al mare vedo la temperatura che c'è perché andare al mare e non poter fare il bagno è veramente terribile Francesco sì assolutamente chiudo così Flavius hai rotto facebook colpa tua non fai mai il assolutamente sì va bene direi che ci siamo la prossima ciao Gabriele asbesto no asbesto no no asbesto no bestemmie no nei commenti no poche al massimo asbesto di asbesto dovete andare a cercare il museo dell'informatica funzionante è spettacolare davvero spettacolare primario vieni nel salento è un filo scomodo Federico da prendere la moto e venire nel salento Pasquale Nabrach Angate Ancattia non vedi quanti nomi noti nei commenti stai scherzando cuore anche a Gabriele assolutamente asbesto la bestemmia è curativo sì ma no anche no va bene ciao Fabio ben arrivato stavamo chiudendo perfetto allora direi ci vediamo teoricamente se non durante la settimana magari ne facciamo una anche a metà settimana vediamo come sono conciato ci vediamo sabato prossimo intorno alle 20 così almeno riusciamo a fare qualcosa assieme e preparatevi di che cosa volete parlare se c'è un argomento preferito per il resto direi che chiudo nella nota nella nota formula grazie mille a tutti quelli che mi hanno fatto beta tester davvero grazie tante e vi ricordo la mattina alle 7 i video alle 14 su youtube alle 19 sul podcast e come sempre grazie mille per avermi ascoltato e state parati e saluti anche da Urico grazie mille a tutti